Nella prima giornata del girone B della Christmas Cup di Calcio A7 Open si affrontano lo sport promotion comasina di Milano, Brigham United e Lead. Parte forte Lead che al quinto la sblocca con una punizione potente di Mariani e poco dopo lo stesso numero 6 di Lead riceve palla d'Artesani e di destro insacca il 2-0. Brigham United si scuote e dimezza il gap grazie ad un'imbucata di Lorenzo Rametta per il sinistro vincente di Misurelli. Sullo slancio Gullo firma il pareggio gonfiando la rete con il suo mancino fatato. In metà ripresa lo scatenato Mariani si porta a casa il pallone con la tripletta del nuovo vantaggio di Lead. Passano però soltanto 3 minuti e Brigham United replica di nuovo con il 3-3 confezionato dal piattone vincente di Lorenzo Rametta. Al tramonto del primo tempo Liussi firma ancora il controsorpasso dei Rossi con un tocco delizioso dopo un assist di Gullo. La ripresa è un monologo di Brigham United che al quarto fa 5-3 con una vuola sporca di Gullo. Due minuti dopo Misurelli manda al bar un difensore poi lascia partire il destro vincente del 6-3. Quindi è ancora Misurelli a firmare il 7-3 con un diagonale chirurgico. All'ottavo Gullo si presenta tu per tu col portiere e lo trafiggia per il suo tris personale. Poco dopo Misurelli cerca il jolly con un pallonetto alla metà campo ma Bassu para attento. Al quindicesimo ancora l'incontenibile numero 10 di Brigham United suona la nona a porta sguarnita. E a 3 minuti dal termine Mariani fa poker per Lid dopo una caparbia azione personale. Brigham United così si impone 9-4 e conquista i suoi primi tre punti in questa Christmas Cup. Allora siamo con Andrea Gullo di Brigham United. È iniziata bene questa Christmas Cup. Avete vinto 9-4 contro Lid. Insomma che tu hai messo dietro un bel poker. Sei contento? Sono soddisfatto per come abbiamo facciato la gara. Sono molto contento per i miei compagni. Come siamo uniti, compatti. Continuiamo così fino alla fine. Ecco siete anche protagonisti in campionato. Insomma una stagione che si prospetta positiva. Siamo molto positivi. Cerchiamo sempre di dare il massimo. Speriamo bene anche nel campionato. Ecco anche per la Christmas invece è un obiettivo ambizioso. Insomma si spiega come sempre tutte le squadre che puntano sempre alla finale. Poi vedremo come va. E tu con Marcino Larrobel ti sei ispirato a lui come giocatore o c'è qualcun altro? No, no, sono i viventino, meglio i net. Ah, proprio i net, allora siamo d'accordo di due. Bravo, fatelo grobo. Ciao, grazie. Grazie mille.